Chiedono il pugno duro contro gli incivili che sporcano la città in maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine per porre fine a un fenomeno che alla fine si ritorce contro gli operatori del commercio. Nel day after delle sette multe del sabato sera all'insegna dell'inciviltà parlano gli esercenti del centro storico, alcuni finiti nell'elenco della polizia municipale, altri no, ma tutti concordi sul fatto che servono misure concrete per voltare pagina. Non siamo responsabili di quello che accade fuori dalla nostra area, intervengono i commercianti, facendo notare che risulta difficile, a serata inoltrata, contenere rifiuti nei cestini gettacarte ubicati nei pressi dell'annunziata. Non lo so, devono trovare una soluzione, almeno domenica si mettono qua qualche secchi, quindi c'è un giorno di lavoro sul Monaco, solo sabato, altri giorni nessuno non butta né Mondizia né succede qualcosa. Solo domenica, se mettono secchi là, tutti buttano spazzatura là e finisci là. Tutto questo spazzatura dove possiamo mettere? Non possiamo lasciare dentro il negozio e puzza, noi lavoriamo dentro farina, la panina, la piedina, giochiamo con salute, non possiamo giocare con salute di gente. E' sempre colpa di chi lavora e non è colpa di chi sporca, perché l'ingiviltà della gente non possiamo pagare noi gestori, noi facciamo del tutto per tenere il più pulito la nostra area, al di fuori della nostra area non siamo responsabili di quello che fa la gente. Ci vorrebbe più controllo dalle forze dell'ordine anche di sera, come fanno per le multe, per le soste selvagge, anche per controllare chi butta per terra qualsiasi cosa, da un bacchetto di sigaretta a un bicchiere di plastica o una botte di birra. Nel verbale della polizia locale gli esercenti sono stati multati per aver lasciato incustoditi i sacchi della spazzatura. Dura l'ex, sed l'ex, verrebbe da dire, la legge è dura ma è legge, ma resta il fatto che il buonsenso continua a venire meno al discapito delle immagini di un'intera città e questo non è più tollerabile.